Ooooooooooooooo-ooo-ooooooooooo-oooooo-oo-ooo-ooo-oo-oooooo-ooo-ooo-oo-oo-oooo-rk Ci siamo, Fruncis! Lo conosciamo adesso! Dopo il disastro... Ciao! Oh yes, yes, yes È tornato adesso È tornato adesso Adesso che puoi dire due mesi? No Eh sì Siamo... No No, no Sì Siamo sempre noi due mesi indietro No Questa è la tragedia Questa è la moglie del Vince Il salonista È tornato adesso È tornato il bimbo adesso Quante porca madonna stessa Cos'è fatto per due mesi? Oh Oh No, ma lui poi è ritornato No, sei andato con quello lì No, hanno trovato la bambina Merda, l'hanno ritrovata Ma che signore Oh, quante cose, quante cose in una volta Banna, avete voluto scritto che l'acqua è verde Merda, mi dispiace Mi dispiace Se giorni dopo Merda Merda Che giorni dopo Ma quale, quale Quello che... Eh, ragazzi Madonna Come volume, come siamo ragazzi? A posto? Madonna Se ti meriti tutti gli amici del mondo In questo momento Ecco, qua è il maggiore Dica altri Ok Che sono tutti gli amici? Sembra di stare in una sala giochi No Non ce l'abbiamo Space Invaders qui Vaffanculo Ordino un whisky Dieci No, ragazzi Guardali Storto Ragazzi Scegliete voi Chissà se poi siamo un po' Ubbriachelli con il whisky E quindi facendo... Ma non ce lo danno Non ce lo danno Io prenderei dell'acqua Per essere innocentoni Dieci whisky Undici Acqua Dodici Guardali Storto Non guardiamo gli Storto, ragazzi Ragazzi Chiedere dell'acqua è il ribadimento Della figura da niente Che vogliono che noi abbiamo In questo momento Guardali Storto Va bene Merda Un altro momento Ti si è rotta la macchina per caso Ma che voce è? Si è un passaggio persa male Ma io vado a sud Prova con quel tipo Vediamo Ma è Dante? E' lo sceriffo, no? No, no Non penso Ecco a te Il classico colpo di fortuna Merda, ti sta simpatico Scusi Per caso va a nord? Fino a dove? Dove mi può portare? Lo stesso per te Non ho molta simpatia Per gli autosuppisti Non è, no Da chi stai scappando E cosa hai fatto Per farmi cazzare? Ha capito tutto sto chiesto Sto solo viaggiando Sono ricercato dalla polizia Non sono affari tuoi Sono ricercato dalla polizia Secondo me taglia bello corto Con la schiettezza che questa persona È vero Lui non la chiama però Ragazzi diciamogli la verità Diciamogli la verità Sono ricercato dalla polizia Diamo la fiducia budget Mentre comunque si mantiene un'opzione particolarmente Particolarmente primeggiata I farti cazzi i tuoi Sto solo viaggiando Secondo me la verità come hai detto tu Lo colpisce al cuore Gli zicchiamo dentro Se no gli stanno simpatici persone Sto scappando dalla polizia E dall'FBI Che cosa? Non aver fatto i compiti? Spiacente ragazzo Non posso mischiarmi questa storia Non è vero Non è vero Non è vero Sì che lo vuoi E sì che lo vuoi E se ce la giocassi? Vinco Vinco 100% Tre freccette per uno Se vinco Mi dà un passaggio Se perdo Le pago Ti cambi un cazzo Dai Due drink Ah che diavolo Mi annoio Parla un po' più lontano dal microfono Parla un po' più lontano dal microfono 27 Toccate Guarda qua Guarda impara stronzo Stai attento Non può essere Cosa dovevo fare scusa? Non male Bravo 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 Ora bravo Sì me la capo Bravo Secondo me Qual è il gioco? Non capisco Chissà che premerlo il più tardi possibile Chissà se premerlo solo verso la fine 47 Ma diventa difficile con il tempo piccolissimo E fai capire che è una cosa graduale Per favore Aspetta Che cazzo? Quando ordini per me Fatti adesso la roba di qualità Ok? Non ho capito niente Sembra che ti abbia suggerito comunque Esattamente il contrario Di quello che doveva succedere Ultimo round La posta in gioco è alta Che faccia di cazzo Stai tenendo duro Per ora Senza fretta ragazzo Non peccato sbagliare ora Mi sento come mai prima Allora premelo subito Let's go Yes Mi stai imbrogliando? Non mi piace Ma come faccio a imbrogliare? Come faccio a imbrogliare? Chi è? Sembri una fighissima Ma non c'è solo questo evidenziato Ma è Jay È Jay È una poliziotta Oh merda Sto cercando un maschio 18 anni Capelli di un dì È veramente io Legato a quella sparatoria Del motel di Turok Chi lo chiede? Qualcuno che era lì Merda Non tradirci bro Sembra di merda Sembra un posto Che serve ai 18 anni Oh cazzo Ti amo Ti voglio bene Sei un grande I suoi hanno ucciso il mio padre Finirà dritto nel braccio dell'amante Beh Sicurati Sono un poliziotto Non è vestita come un ultimo Partiamo da questo Sono fuori servizio È personale Però Yes Non ho fatto un'altra cosa Non ho visto nessuno E lei? Ha visto qualche minorenne qui stasera? Lei sembra piuttosto giovane Vai così Risponda alla pottuta domanda Ok Mi faccio pensare Beh C'è Shane al bar Quel ragazzone di G Che viene sempre a C Yes E Kyle Oh aspetta un momento No forse è Lyle Ha visto un ragazzino o no? No Non posso dire di averlo visto Ma se lo vedo Mi chiamo? O meglio Potrei chiamarla L'amunque Io vorrei un po' di fortuna Per il nostro Jay Un bacio della fortuna Please Vorrei tantissimo Che quel camionista Ci facesse tutto Che fosse sempre con noi Ti prego Ti prego Vieni 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 Yes Ti prego Seguici per favore Vatti seguire Quindi non mi prendevi per il culo prima? Di un po' Hai ucciso quei poliziotti Fatto esplodere uno scuolo O se l'altra merda Che dicono in tv? Non voglio problemi Cazzo ragazzino Sei tu il problema L'hai fatto davvero? Beh la verità è che non siamo stati noi Noi non abbiamo sparato Non abbiamo fatto niente In quell'occasione Ragazzi Fate il 10 Cioè già abbiamo Già abbiamo La sua fiducia Diciamogli la verità Speriamo di sì Chissà come recepisce Il non sono stato io E se l'avessi fatto Magari avrebbe capito Tipo eh Non c'è bisogno Di avere paura Però Boh Siamo abbastanza vulnerabili adesso Non farlo in modo incazzato Jay Stai caldo No Non sono stato io Bravo Precato Però secondo me E' quasi piaciuto Vabbè E il mio passaggio? Non era una scommessa neale Che cazzata Ma chissà chi sei Il signor annoiato Che cazzata Non fregare Non fregare Vuole entrare Abbosiamento Ehi Vattene Vattene Dannato Vagavoto Dove cazzo siamo? Comunque Comunque quando viaggi Solo per il mondo Le persone ti dicono Solo frasi Grande stereotipate Aspetta un attimo Qual è la mia giacca? Dove hai comprato Quell'iPhone? Non c'è posto Ma che plurio omicidio? E' morto una persona sola Veramente Una città così grande L'unica polizia Che va avanti Da trovi L'unica Si tratta di un soggetto Estremamente pericoloso Tanti ragazzi Ci sono Si sta Vedi un sacco di persone Che dovresti essere abituato A posto Ecco Non ti vuole chiamare mamma? Si Ce ne sono io Devo fare una chiamata a carico Della famiglia Dorland A Turok Arizona Indichi il tuo nome Dean Il tuo ampagno di studio Eh Dean E' il nome che gli abbiamo detto Alla famiglia No? Ah chissà come la prende Ma è meglio dire il nome al centro Il tuo ampagno di studio Sembra un po' Merda Merda È strano È strano È strano Pronto? Ho una chiamata da parte di Dean Oh mio Dio Sì Sì Accetto Però Sicuramente Ti avrei mai più seduto Vanessa Mi serve aiuto Perchè? Che succede? Sono nell'aiuta No soldi Non ho dormito Ehi Ehi Ralleta Nell'aiuta Ti sei messo in qualche guaio Ho problemi familiari Sono cercato la polizia Gli diciamo la verità Minchia ragazzi Non lo sono Forse non è ancora il momento Siamo veramente Cioè è chiaro che su di noi Ha anche un'aspettativa Che si è costruita immaginaria Sono ricercato la polizia Gli facciamo proprio capire tutto subito Ho problemi familiari Forse potrebbe essere ancora il modo Per empatizzare ancora con lei Che è piena di problemi familiari Fate voi ragazzi Io ovviamente non saprei cosa cazzo dire Merda Merda Oh Ho litigato con mio fratello Ho detto che Non importa Non per essere che sei sensibile a questo Sono andato Sono scappato Merda Ok Perchè poi il suo padre la interrogava E lei diceva che scelta la polizia No È troppo tardi Ora sono solo Non ho da mangiare Non ho soldi Guarda Le cose sono state una merda anche qui Mio padre pensa che tu sia un spacciatore Ha trovato una vecchia busta verba Nel cassetto delle magliette E io ora sono in punizione per le testate Sul senso? Lo so È fuori di testa cazzo Dove ti trovi? A Sottra dei Citi Vicino al Hotel Sabrina Hotel Sabrina? Accanto alla grande Carmela Oh merda Puoi ordinare il servizio in camera Sono un pisolino Vanessa sei un angelo Vanessa ma che Ma sei anche veramente bella Cioè sembra che Sei l'unico affezionamento forte Che hai avuto fino ad ora Scusa guardavo una foto di me Mamma Oh yes Non è gli esami Che Fanculo gli esami Preferisco aiutare un amico Esistono veramente persone così Dai sei fantastica Però non è sicuro Merda No 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 Certo 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 Non è sicuro Sei fantastica Tanto viene comunque Non è sicuro ma viene comunque Però almeno gli diciamo Qualcosa che faccia pensare Che ti stai preoccupando Un secondo per l'azione È che non la È un modo per dire Che sei ricercato Senza dirglielo È un modo per volerle bene Sì 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 Non è sicuro Tanto viene lo stesso Secondo me No no È piccoloso Non dovresti Prego di prevenzire Sì 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 Ci sono stata È un posto strano Ma sicuro Quindi Quindi viene qui Non preoccuparti per me È davvero Lo sapevo Yes Prenoto la stagia a nome mio A presto Perfetto Al bacio Che be Finalmente Nei primi 30 secondi È successo veramente tutto 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 È qua Merda Dai yes yes Nel frattempo Yes 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 Sono i Yolt Farò sperare Quello è il mio bersaglio Che cazzo Ah Cos'è sto posto Il meccanico Che fortemente malinconico Dobbioso che sei Minchia Siamo in tutti i giornali Cazzo Finalmente uno Che se ne fotte una minchia Che se ne vuole iniziare a fottere Probabilmente Me ne pentirò Ma adesso Sei quello di cui Io mi sono Olio d'oliva Marlon Due anni soprio E non riesco neanche A ricadere Nell'inizio Consile Dai 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 Ma che ti Ma che C'è qualcuno Il tuo dono È molto più dolce Della doazione No Oh mio dio Sharon Scusa Scusa Poi Cristo Finalmente mi attimento E tu vuoi massacrarmi con Sono mansi Hai fatto eruzione In casa mia La finestra è aperta Si è bucata una gomma Dopo il primo miglio Ho perso Tiger Già ci abbandonati Da allora sono in fuga Avevo solo bisogno Di un posto dove li possiamo Fare una doccia Non mi piace per niente E' schifo Te ne devi andare Batti Batti Cosa Aspetta Ragazzi non possiamo davvero Fidarci di statizia E' pazza Finiamo sto personaggio Fino Peggio di Tyler Minchia però se è qui E deve avere una scelta Le vogliono fare avere Il suo aspetto di redenzione Forse togliamola via No C'è pure suo figlio Quel motel Era la cosa migliore Che gli fosse Mai capitata E ora tu E i tuoi dannati figli Me l'avete tolto Quello che abbiamo fatto E' imperdonabile Lo so Madonna No Giorgio Ha perso la sua casa I suoi soldi Tutto ciò per cui ha lavorato Devi credermi Se potessi tornare indietro Ma che cosa Non sei venuto bene A casa Alla polizia Alla polizia Alla polizia Facciamole capire Veramente Vai alla polizia In galera E subito No 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 Solo guai Ci siamo fidati di lei Tre volte Tre volte Fottuti Chi scrive in Messico E' proprio affezionato A questa risposta Scappiamo in Messico Non vedo com'è Yes Yes Grazie il filosofo Array Spiega che E' stato solo un furto Andato storto Rimettimi alla loro clemenza Sappiamo entrambi Che la cosa è andata troppo oltre E pensare che una volta Sognavo che tu apparissi Nel momento Merda Ma questo Cristo Guarda Ho vissuto come un cannerandaggio Dormendoli Si mangiando dai cassolini Ieri notte un barbone tossico Voleva sbutellarmi Con un taglierino Fate solo voi Io non voglio avere alcuna pietà Cioè non solo è un brutto personaggio lei Ma è uno stupido personaggio lui Che palle Che bella la vostra decisione Che bella questa maggioranza Non ti piace lui? E' palesemente manipolato da lei Certo Infatti merita veramente Anche un po' di abbraccio E olio di Dargan Per accrezzare Sei sempre la solita Racconta pure una storia strappalata Perfetto E ora è quello che vuoi Bravo Beh Adesso basta Strappalata Pensi che questo Me lo sia fatta da sola? Non Fermati Hanno arrestato Tyler? Io l'ho aspettato Almeno un figlio ho potuto Io Cercheranno di farlo parlare Ma non lo fa Sa cosa? Hanno fatto a dei Ma dovresti stare a vedere Il figlio che poteva ammazzarci Il mio bellissimo bambino Un stuga gigante Ce l'hanno sempre avuta con lui Ha sparato a tutti Un bellissimo bambino Scusa E sevi Almeno lui È riuscito a scappare Vero? Non so se è abbastanza forte per farcela Prego che lo sia Per l'amore di Dio Fa che sia bene Tutto questo casino Per qualche migliaio di dollari Ma abbastanza Per non farci uccidere Da quegli elinquenti Tutto per colpa Di bene Bastardo Avevamo anche noi Dei sogni Una volta ricordi Ingrandire il bar Farlo fruttare E quel viaggio in moto Per il paese Che hai sempre detto Di voler fare Eh A te l'ho detto proprio Avresti mai immaginato La tua vita così? Ma non è colpa mia No, no È tu così Ma non è colpa mia È tu che sei tutta coltellata E mangiata nella spazzatura Sì Qui sto bene Col mio minchia di gattino Marlon Fammi tornare nella mia dipendenza Che non ha ucciso nessuno Se non me Bravo Per favore Madonna Che Non vorrei incontrare L'attrice di persona Madonna mia Dovranno decidere Per me Le persone accanto a me Con i porco di usi L'incontro Vabbè Se tutto quello che hai è un gatto Allora non sei felice Fottiti Hai perso quasi tutti i tuoi figli È un gatto stupendo Stai mentendo a te stesso Colto Anche Marlon Non lo capisce Perché sei qui a parlare del niente Sei ricercata Devi andarti Scappa Da questa città Ma è una polizia Vol Ben diceva che mi avrebbe portata via da Turok E anche Dante mi ha amato per un po' Mi c'era A quei tempi Tutti ti amavano Dante lo scelizzo Non ho detto che scelgo sempre l'uomo sbagliato Beh Ero abbastanza giovane e stupido da pensare Che avresti ascoltato E da giovane e stupida pensavo di saperelo Dovevo stare con te Che sei l'uomo che aveva la casa più vicina alla mia foto Non doveva succedere Si avresti dovuto e anche più Ma non lo Anzi non lo pensi davvero No 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 Non lo pensi davvero Non lo pensi davvero Non lo stai mettendo la possibilità di infinocchiarci Stai facendo questo Non doveva succedere Non doveva succedere Ragazzi ragazzi No ha ragione Jeff Non lo pensi davvero È l'apertura emotiva La ferita Vero 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 No no ragazzi Ragazzi non doveva succedere Oh merda Ho sbagliato Merda Tutti la terza please Merda Merda il signore Si finisce Non mi hai mai neanche guardato Merda hai ragionato Ma se ne hai avuto due Ma bravo Non aspettavi nient'altro Non aspettavi nient'altro Se sarei stato un buon amico Quando quei delinquenti si sono presentati Quando non avevo nessun altro Tu ti sei fatto avanti No aspetta un attimo Se stai parlando del Sape che stavamo fondando Ma trovare il codice della cassaforte di Dante È stato Se avessi saluto sarebbe Unciso Gli abbiamo dato a noi Il codice della cassaforte Lo sceriffo ai figli Lui è stato Perché amando lei Voleva che avesse dei soldi E lui per qualche motivo Saprà del codice Che la dà dei figli È iniziato tutto per colpa sua bro Oh merda È stato tutta colpa sua Oh merda Oddio Oddio Oh cazzo Penso che abbiamo bisogno di un drink No 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 Non ce l'abbiamo Non ce l'abbiamo Io ho bisogno di un drink Che mi farò da solo Non versarmi da bere a casa nostra No No Rifiuta 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 Ragazzi Rifiuta Parlarne per favore Veramente Ma è veramente la scelta più facile da fare Già troppi guai Ma Non per il problema di finire nella dipendenza nuovamente con l'altro Non dobbiamo dare aiuto a stati iniziati E lei non deve darlo a noi Cioè si sta solo appendendo Ma lo senti come cambia immediatamente il tono con un secondo di lupanza Sì 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 Madonna Ogni parte del mio corpo grida di farlo Ma se da saggio sono un sorso Mi dispiace tanto Avrei dovuto sapere Che troia No Nessuno sa del tuo coinvolgimento E giuro che rimarrà Cazzate Ma chi si ha fatto la dota Sei previssima Sei previssima Sei previssima Lo dirà Sei nata Proprio per fare questo Lo dirà Lo dirà Invece Se la tradiamo adesso lo dirà Se ora noi la trattiamo male Lei ce la butta in culo Sicuro E noi siamo veramente troppo fessi per non fare vedere che è vero A me non mi interessa tanto di sto meccanico Cioè l'importante è che nessun altro innocente Abbia problemi E gli innocenti per me sono la famiglia E il figlio Jay Loro devono stare a posto Questi due per me possono farlo Odio doverlo dire Ho bisogno del tuo aiuto Ma in che serie A casa mia che stavi dormendo Ma stai Mi stai ricattando Non da quello che è successo l'ultima volta Sembra un campione presagio Mi stai ricattando Mi stai ricattando Però lo mette veramente nella condizione Di poter dire Ok Ho paura che il fatto che tu mi stai ricattando E io cosa ci guadagno Sembra tipo So quello che stai facendo Prendo il meglio che posso prendere Ormai sono in culato Mi sembra Dici che è sbagliato? No perché mi stai ricattando Secondo me adesso Non è un ricatto Ti sto soltanto spiegando Eh ovviamente O cosa? Lo direi alla polizia? No Non te lo direi mai un amico Voglio dire Certo Potresti finire in prigione Per questo Voglio dire Addio Ma c'è una riuscita Per tutte le due Quel suo lì Va guardato più da vicino Non sono soldi Bensì Dami ha preso soldi dalla malattia E li ha trasferiti tutti In un unico conto I soldi della cassa Sono solo la sua parte Il tesoretto è in una banca in bilancio E tutti i dettagli Sono qui Madonna Un secondo di E fuma E beve E comanda Un secondo Nessun documento Basta solo entrare Consegnare la password E uscire con i soldi Non posso farlo niente Una mossa sbagliata Mi sbatto in un gabbio Per tutta la vita Ma tu Poi smascheriamo Dante Per quello che è Carmi Vendetta Chiamalo come vuoi E quando il suo mondo Gli croonerà addosso Noi saremo già lontani So che non mi credi Quando dico che avremmo dovuto stare insieme Ma questa è la mia occasione Per dimostrarti Che faccio sul serio Puoi rimanere qui a Turok Ad affogarti nell'alcol O possiamo stare insieme In paradiso Ti rendi conto Che se lo facciamo Se scompariamo Non potrai mai più vedere Jay Ciò non significa Che non possa aiutarlo Prima o poi Troverò un modo Tu mi hai lanciato Un'ancora di salvezza Ora tocca a me Vieni con me Respingila Con tutto Il Cuore Mi hai fatto incazzare tantissimo Mi si è spento un secondo Dove vuole andare Se è stronzo Dove vuole andare Vuole prendere i soldi E sparire assieme a lui Ma saremo pugnalati nel bosco Come sempre Come sempre Alla prima occasione Mi piace Siamo tutti convinti Bravi Sì Speriamo che la respinga Fisicamente In modo tortuoso Ti prego Paul Devi ascoltarmi Ho ascoltato Ma non mi sposte No Non posso farlo Non posso farlo Si è veramente un cucciolo Anche Paul Ho comunque Ti sei disintegrato La stabilità emotiva No Ciao cugino Sono io Ciao Yes Ecco che faccia sapere il codice Il suo cugino Ma sto meccanico È il personaggio più idiota di tutti Ma è veramente un buono Babbissimo Madonna che fesso Minchia ragazzi Sensivi Legate nell'arco Cioè è diventato il personaggio più importante Con una scena Minchia la suite Ti ha preso Porco dio Che bello che ci si incontra qui Dai Dai una soddisfazione a Jay E trasforma il termine amico Che bello Vedetti Bel travessimento Si è arrivata davvero No Non è mai L'hai detto a qualcuno L'hai detto a qualcuno È l'unica È la prima frase È la prima frase Che stai dicendo a lei Proprio le togli Qualsiasi tipo di apprezzamento Sul suo sforzo In questo senso Ti preoccupi solo Della tua condizione Hai ragione Si è arrivata davvero Grande Jeff Si è arrivata davvero ragazzi Ha ragione Jeff Si è arrivata davvero E veramente tipo Ma la bellezza che ho visto in te È È qui prima che io possa dire carbone Sei venuta davvero Beh sembra di un cucciolo abbandonato A calappi a cani Posso entrare? Oh Che bello che sei Jay Speriamo che tu non debba Entrare un video Pensavo volessi dormire Non volevo farli E farei il letto Ho preso 200 dollari Dai risparmi di mio padre Ti ho anche portato Dei vestiti puliti E E sono bagnatissima E poi siamo pari Ok Pari? Ma non mi devi niente Oh non te l'ho detto Credo di aver superato L'esame di storia Sei davvero gentile E cazzate che non se lo merita Jay merita più di tutti In questa storia Si immagura e prenditi l'amore Jay Ogni voto che riva nelle scelte di Jay Mi emoziona No li voglio vedere scopare fortissimo C'è la persona che bella che abbia incontrato Fidati Non sono così tanto una bella persona Allora perché mi aiuti? Ascolta Stai facendo una cosa che sempre Nessuno sognava Scappare Da tu Mi seguo la SWAT Vanessa Quindi Se posso aiutare te in qualche modo Che succede? È che Se tu non fossi venuta Ora non avrei nessuno Wow bravo Sicuro che non puoi tornare dalla tua famiglia Tua madre sarà preoccupata No guarda Tu non gli avresti la verità adesso E i miei fratelli non sono i miei fratelli Però che paura L'ho scoperto l'altro giorno La mia vera madre era una zia Yes vai così Non so chi fosse mio padre Oddio Deve essere terribile Mi sento perso Mi hanno tradito Non riesco a farmi una ragione Scegliete voi ragazzi Forse per empatizzare con lei Mi sento perso Forse mi hanno tradito Visto che lei odia un po' il padre Boh non lo so Scegliete voi Comunque sarà veramente una bomba Mi sento perso E' la verità vera Ma che sarà veramente una bomba Affrontare Il momento della verità Perché lei è già qui Ha cambiato Non so chi sta per essere qua Se non la prende È bene che non l'avessero detto Però così Viveresti nella menzogna Forse ad ora in poi La tua famiglia Non è più la gente Con cui sei cresciuto Forse sono le persone che scegli Sì E fai vedere Questi inquadrivura Da dietro Una bella maglietta Oh merda Ma che cazzo dici Maledetto pazzo Vabbè sei stupida La testa di cazzo Sei davvero stupida Mi senti io Papà Che stai facendo? Chi altro c'è qui? Dai sono solo Mi hai seguito cazzo? Ma com'è? Non ricevi che non riceva un avviso di prove Quando qualcuno usa la mia carta fuori dallo stato? Ora rispondi alla domanda Cosa ci fanno in un hotel di Salt Lake City? Non sono affare il tuo Cos'è sta? Vanessa, vuoi finire come tuo fratello? Vivere una vita segreta, piena di bugie, fino a quando una mattina non ti portano all'obitorio. Oh, colpiamolo per la sua morte. E' stato investito da un ubriato. Alle 4 del mattino, con abbastanza merda in corpo da uccidere, sai una cosa? No, ora basta. Torni a casa con me e questo è tutto. Posso almeno fare pipì prima. Fai quello che devi. A volte il volume muoenta. Esci, esci da lì, esci da lì, esci da lì, vattene anche tu. Scappa anche tu. Segui l'esempio DJ che hai sempre sognato, vattene. Che stai facendo? Che stai facendo? Segui l'esempio di cosa stai facendo? Vanessa, che succede? Che ti chiedi? Non presto. Ma diglielo, io lo stai arrivando. Due minuti così. Tu! Tu! Ma... La molla, c'è la molla. Vanessa! Stai facendo un grosso errore! Pronto? Pronto? Su iLive! Dobbiamo andarci da qui. Mi intendi insieme? Non posso mica lasciarti solo. Cosa? Sai come avviare un'altra sensazione? Eh, no, no, su iLive. Domani è un evento, quindi mi dobbiamo mettere la piscina. Dale, me l'ha fatto vedere. Questo è indiverso. Credo siano questi. Dai, Rosario. Oh, di essere benedetto. Wow, 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 wow! Merda! Vai! È bello che siete insieme. È bello che siete insieme. Adesso! No, e adesso mi sembra il compadre proficato. D'affanculo. Ma infatti a me non è che dispiace tanto lui come personaggio. No. Diciamo che reagisci anche abbastanza bene mentalmente per avere un figlio morto. 9-1-1, posso aiutarla? Sembrerà la ponte. Ma... Credo che mia figlia sia appena scappata con un fuggito. Lo ha preso nel momento in cui ho alzato la cornetta. La mia realizzazione di questa è caduta in due secondi. Però merda. Dobbiamo dirgli che lo abbonasse. Alla prima occasione glielo diciamo. Merda. E lei sta scappando veramente per motivi così genitoriali. Ribellina? Eh, no. Già immagino, non me la... Dovei dirmelo prima, dimmi. Non mi dimentico. No, no. Ho deciso di iniziare a fumare adesso. La prima volta che sa giù la nicotina. Paleselente. Ma che ti sei messo in senso? Vorrei che mia madre l'avesse fatto. Spiccare il volo. Prima che fosse proprio tardi. Che non è successo? Niente flashback. Specialmente, cancro al pancreas. Il dottorino è stato strutturato. Io penso che queste cose succedano quando passi la vita a fare quello che ti dico. con gli altri invece di essere te stesso. Tuo padre è molto duro con lei. Stai pensando la sua? È nostra sorella. Stai pensando questo? Com'è morta nostra mamma? Non si sa. Ma è morta? Sì. In cose... È nostra sorella, ragazzi. Allora, ragazzi. Cerchiamo di trovarla prima di scoprirlo. Cerchiamo di uscire un attimo. Per favore. Che ha detto? Che ha detto? Il papà. È preoccupato. È preoccupato, ragazzi. È un padre. Uscirà sempre più a largo. Quanto si sta veramente preoccupata. La madre è morta al parto. Trombare la sorella... Sotto me è una bugia. Sembra che piaccia così tanto che... Eccita anche chi non ce l'ha chiaramente. Pare sento una bugia che è morta al parto. Deve volerti bene. No. Mi vuole controllarmi. Pensa che sia come mio fratello. Lo sei. Sto facendo questo. No. Naturalmente lo è. Ti dirò una cosa. Starà dando di matto in questo momento. Grazie della sua attra, troppo. Manda bacino da... Un bacino anche a te. Qual è la cosa peggiore che hai fatto in vita tua? Allontrarmi dal microfono. E... Avere sparato una persona. Andarmi a aiutarmi. Mentira, è una ragazza che mi piace. Bravissimo. Che... Che maestria. Che maestria. Ragazzi, quante due cose... Quante cose in una volta otteniamo con questa frase? La possibilità di trombare la maybe sister. La maybe sister. E iniziare a intavolare la verità sul porca madonna di hotel. Andiamo, carichiamo, carichiamo, carichiamo. Avere sparato una persona è la vera verità, eh? Certo, ma è solo quello. Ed è così, spam. Non l'avrei scelta io. Ah, perché dici che non ho tre persone di dare. Ho detto una bugia a qualcuno a cui tengo. È diverso. Non è importante. No. Beh, a chi? Non è importante, ho detto. No, no, mi piace tantissimo. Ma non dire bugie a me. Sono messo a una scelta strana. Ma pensavo che andasse veramente a quello che... Poi tu hai detto intavoliamo e non hai scelto quello. No, perché avevo visto un po' di stavolare in... No, 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 che vergogna. Che gentile. Vabbè, tutti sbagliamo. Ma mi aiuterai. Stronzo. No. Fai schifo, vabbè. Call. Recreation area. Intanto, a Churro, Arizona. Ho detto di aprire. Se mi trovarà, siamo fottuti. Monda da via. Temporeggia. Qualsiasi cosa. Gli diciamo che è qui? Ed esce il fatto che noi gli abbiamo detto il porto di ricordi. Dobbiamo capire quanto questo ci tiene. Potrebbe anche tranquillamente spararci. Non dire niente. Torna più tardi. Sono ammalato. Solo un minuto. Solo un minuto. Solo un minuto sembra giusto. Sono ammalato. Ragazzi, sei uscito dalle medie. Va bene, siamo in questo capitolo. I peccati, i pentimenti dell'altro sono finiti. Andiamo. Non dire niente subito. Arrivo subito. Adesso vengo a toccarti. Smetti a toccarti. Grande, cugino. Nascondi, reggiseno. Nascondi il reggiseno. Spostiamo tutto sulla dipendenza d'alcol. Non ti avodiamo quello? No, no, no. Secondo me... Che dici? Reggiseno e... Bicchieri? Perché noi siamo soli? Reggiseno sicuramente. Noi non abbiamo un reggiseno. Ok, minchi. Però bicchieri nel breve termine, proprio che sono adesso bagnati. Magari c'è anche la cosa del rossetto, chi lo sa? Reggiseno, tipo, con chi sei stato ieri? Ah, ok. Secondo me... Bicchieri. Ma lui fuma, lui fuma, lui fuma. Però sicuramente in due... La sigaretta può dire ho iniziato da poco, non so. Speriamo che ci faccia fare un'altra cosa e poi basta. Aspettato 30 secondi per essere di fretta. Benissimo. Ma cugino, quanta stima di mente devi avere per oltrepassare la mia parola? Scusa. Ciao. Io... E la bici dei bambini qua fuori? Quella... La sto sistemando per il figlio di Joyce. Non è molto... Ma dopo quello che è passato. Ok. Ho della roba tua che hanno salvato da vicendia. Attrezzi e quant'altro. Pensavo potessero servirti. Oh, grazie. Cavolo. C'è più buio qui che in una segreta. Tu entri sempre così? Ascolta, io non volevo che diventasse un talagasino. Gli olt hanno scoperchiato il vaso di Pandora derubandomi. E se non mi avrò tutto indietro, sono fottuto esattamente come loro. Quindi... Hai progetti ora che il motel non c'è più? O ti richiuderai in casa per il resto della tua vita come nonna? Prendi una vacanza, nessun piano, magari una rapina in banca, trovo un nuovo lavoro. Troveremo un nuovo lavoro. Magari una rapina in banca, chissà se lo vede come un... Ti metti a fare battute adesso, mollusco. Siamo dei molluschi sempre ai suoi occhi, secondo me. Ha entrato, ha fatto quello che voleva, ci ha aperto la finestra come tipo... Non è così che si tiene la casa, te lo faccio vedere. Trovare un lavoro? Qualcosa di diverso? Che... Sì, magari... Un lavoro che sicuramente non... Un cambio di carriera, certo. Sai che stavo per diventare un analista per l'FBI? Io ho appena detto giardino. Un cazzo di lavoro d'ufficio, pensa te. Sembra una vita fa. Guarda questo piccolo loggia uomini. Se Clitus sentisse il tuo odore, sarei io a finire nei guai, eh? Calma, Libero. Oh! Hai l'aspetto di uno che sta come me. Un caffè potrebbe farci bene, no? Sicuramente ci si gara, non ci penso io. Di qualcosa? Quando mi unì all'intervento, lo scerifo Wilson mi faceva fare il caffè. Me lo faceva fare ogni mattina. Cioè, ci mette più di scelta senza scelta. Sì, fermo. No, no, vabbè. Beh, all'epoca pensavo che l'importante fosse fare la differenza. Ma fare il bravo ragazzo non è sempre così facile. Perché quando c'è qualche stronzo pazzo e non riesce a prendere in mano una bibbia o una pistola, che fai? Che fai? Cosa? Cosa dico a te, tanto sei come nonna. Ragazzi, nascondiamo la sigaretta. È l'ultima cosa che ci fotti. È questo il tempismo. Secondo me è questo. È solo da scurire, certo che è da nascondere. Certo che è da nascondere la sigaretta. Chissà se è il tempismo. Secondo me è più una domanda retorica la sua, quindi possiamo anche non rispondere. Cattino! Eh, cugino, parlo con te. Tu, tu sapevi che ero l'hotel quella notte. Bravo, parla. Non ti hai neanche passato per la testa? Chiedete di me. Intendi se ho pensato che fosse una buona idea ricordare a tre bastardi sanguinari che avevano in ostaggio il cugino dello sceriffo. Allora no, non ci ho pensato. Ciao. Ehi, sei sicuro di stare bene? Ti vedo un po' agitato. Ha agitato? No, perché non aspettavo così. Se ci dà la possibilità di chiedere aiuto al muro... Immagina di no. Senti, ocellino mi ha detto che eri alla centrale prima. Parlavi con quelli dell'ufficio del procuratore. Sì, sai, mi hanno chiesto cosa ricordarsi del motel e di tutta la storia del bus. Volevano sapere se secondo te ero impazzito, giusto? Mi hanno fatto un sacco di domande che non... E qual è stata la tua opinione professionale? Dammi quel caffè intanto. Hai posto fine allo stallo. Sì, sì, non facciamocelo ne dico. Questo qua è un altro pazzarello. Ci voleva uccidere all'inizio. Vero? Al protagonista. Perché il protagonista sapeva del libro nero. Il libro nero per antilato più grande cosa. Quindi qualora fossimo davanti tu non potresti mai perdire i minchi ho detto il codice del libro a quella. Ho detto che... Lo farà a lei. Ho fatto il poliziotto. Mi ha presentato otto stanze di rete. È stata una scelta tattica. L'abbiamo toccata per un'ora, bro. I bastardi stavano per scappare i messi in un'auto di spiega di ostaggi. Ho dovuto fare qualcosa, cazzo. E cosa ho ottenuto? Sono rimasto folgorato in un dannato bagno. Ecco cosa. Ora tutto si è trasformato in una intide gara per la giurisdizione. Ora la dannata FBI. Anche Becky mi odia morte. Ha dato la sua benedizione agli orte quando hanno fatto irruzione in casa mia. Lo sai? Faccio del mio meglio con lei ma mi sa che ne sarà mai abbastanza. Rispondigli! Oh merda! Oh, ehi! Ti vedo strano, cugino. Che settimana. Comunque deve essere anche abbandonato in silenzio. Si vedete. Avrà quello che si merita. Ovunque si nasconda la troverò. No! Con l'aiuto di Dio. E con il mio. Te lo dico subito. Dammi l'opzione. Più vicino di quanto pensi? Ragazzi. Certo che è bello sputtanare lei. Stiamo anche sicuramente rovinando noi. Uscirà la roba? Esiste veramente la possibilità? Sì, il fatto è che questi tre si devono autodistruggere e basta. Non mi interessa di nessuno di loro. Mi piace tanto. Dai. Ma adesso lo ammazza. Gli diamo un colpaccio. Non mi interessa di nessuno di loro. Ok. Yes. Ragazzi. Yes. Forse è proprio sotto il nostro lasso. Ma io... Che ne so. Che faccia da gattino che fa questa? Nessun motivo dicevo così. Perché è esattamente quello che ho pensato. Quindi ho messo qualcuno a sorvegliere la casa. Per sicurezza. Sai che avevamo una storia. Quando ero un vice. Voleva che lasciassi vecchi per lei. All'epoca era molto più carina. Ah sì? Perché ho sempre pensato che fosse il contrario. Chiedi tu che volevi che lei facciasse bene. No. Disbati, Bull. Quella strozza era matta come un cavallo. Ho schivato un po' di proiettili in vita mia, cugino. Oh, merda! Avvertiamolo. Merda! No, no. Maledetta strozza. Che schifo di pazza. Che schifo di pazza. Non ne fa una giusta. Che perfetta faccia dell'odio. Che brava l'attrice a farsi odiare così tanto e venire perfetta. Lei è bravissima, è la migliore, ragazzi. Madonna. Che rabbia. Mi dà tanta rabbia. Mi dà tanta rabbia guardarla. Ma dici che dobbiamo risolvere ancora cose con le nostre mamme? Perché ci fa un effetto veramente... No, non è che è davvero strato. Adesso, dietro di te! Yes! Dai, carica! Subito, subito, subito. Stupido, io fingevo! Già. Grazie. Ora gli dice del codice, ovviamente. Mi dovrai uccidere. Non pensare che non lo farei, Sean. Ti porterò dentro per quello che hai fatto. Sappiamo entrambi che non è per quello che mi arresti. Oh, merda. Oh, merda! Prendila! Prendila! Fai quello che devi fare, fai quello che devi fare, fai quello che non hai mai fatto. Fallo. Oggi. Dov'è il mio libro? Ce l'hai tu! Lo so! E non lo riaprò. Se non lo riaprò, sono finito. Tranquilo. Mi assicurerò che tutti i giornali ne abbiano una coppia. dopo aver svuotato il conto. Queste persone, non sai con chi hai a che fare. No, no, non capisci! Non sono soldi di lei! Paul, come hai potuto farmi questo? Ma che cazioni, che vuol dire? Ragazzi. Puoi tenerti il libro. Puoi tenerti il libro solo perché non siamo su telomeriti, ma che opzioni sono? Ma non ce ne sono altre, vero? No. Merda! Lei ti darà il libro. Possiamo fare un accordo? Lasciaci. Non diremo niente a nessuno dei soldi. Cosa? Paul, non è finita. Possiamo farci. Non avrei mai. Lo so che è stata lei a parte del fuoco, Paul. Tanti si stanno hanno la possibilità di non finire in prigione. Ora dammi la pistola. Yes, intanto prendi lei in mano. Dopo il Vietnam, giurai che non avrei più impugnata uno. Oh, merda! Si è fatto il Vietnam, Paul! Sì, io con questa stronzata da frecchettone. Dammi la pistola. No, non ascoltare. Ci si sbatterà dentro tutti e due. Prendi la spara. Aiuta, Dante! Fanno schifo entrambi, ma lei? No, deve finirla. Possiamo anche finire in galera. Non è veramente male il piano che tutti si sfancurano. Allora, non stiamo ragionando. Però io a lei non la voglio più fra i piedi. E mi sa che neanche questo la fermerà. Perché è un personaggio che secondo me è proprio progettato per farsi odiare fino alla fine. E sono totalmente d'accordo. E Dante è l'unico che ha detto che è povero ingenuo. Cioè, c'è già messo nella condizione di conosco il tuo carattere. Ma che cazzo hai fatto? Ora lei dirà dei soldi, sicuramente. Del codice. Cazzo, cuginoni. Sappiamo entrambi che è finita. Fai così. Ah, non è vero. Mi dispiace. Non volevo che si facesse male a qualcun altro. Compresa te. È tutta la cosa giusta. Antenemato. L'anatemas finale. Ragazzi, mi è andata veramente così bene. No, succede qualche cazzata. Cosa è? Che cazzata non è il viaggio. Vole a parte della giusta con una ragazza di seguità. Lì, 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 lì. Quella era l'agenda che non deve essere scoperta da nessuno. La Gale 8. Era quella. Chi? L'agenda che non deve essere scoperta da nessuno. Non so cosa cazzoso la cosa. Perché sul sedile della macchina... Dove siamo? E' un bel pastecino. Questa camicia... Sei sicura che sia adatta? Beh, non ci fate male. Ma no, chi è quella con la maschetta papera? Ma non so, la ragazza. Sì. Scusa, sei il tuo dog. Sì, 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 sì. Ho sette agendanti. Oggi voleva trasferirsi in Aida. E uno non vince contro l'altro. Sono gente ricca e quindi... Sembrano... Questa situazione non mi piace. C'è troppa gente. Oh, non voglio essere. Oh, ma vai. C'è l'occhiare che per i mani... La trifoglia? Che cos'è? Che segno sei? Credo sia extra. Ma io mi parlo. No, tu sì. No, ma mio padre sa già che sia una tossica, quindi chi se ne frega? Non mettetele in bocca subito, aspetta. Devo... L'hai presa, l'hai già presa. C'è la cosa? Letteralmente come cazzo volete senza proprio riflettere? Stiamo parlando di assumere aspasi e basta. Loro ci troveranno, faranno gli esami tutte e due, ma noi saremo innocenti. Ma poi lui lo stiamo rendendo il paladino. Peccato, la cosa che la macchina potrebbe avere forza per spiegare le pensioni. Ma secondo te non aveva la possibilità? Non per me. Grazie. Uno di noi deve essere un'unica. Delusa? Era il tuo unico modo di fare amicizia, porca madonna. Musica ritmica, bro. Non male che non è una di quella senza ritmo, perché se no è impazzito. Oh merda. Un ciccio. Ciccio? Sono tutti fuori di testa. Eh sì, ma non è molto. Ah, certo che sei stasiano. Mi sono inizio di libertà che sta. Oh merda. Metta di amico. Me l'ho riconosciuto. Dai. Sembra figo. Dai, balliamo ragazzi. Ma sve, ma possiamo rimanere qui? Ma che ne so? Provi cd. Anche Dean si marita il suo divertimento. Intanto lei rimane se gli diciamo non bisogna andare qui qua. Fatte come la mia madre. Dai, balliamo. Let's go. Sono contento che tu mi stia divertendo. Non mi sono mai sentita così bene in vita mia. Dovremo, dovremo portarci qualche pasticca per il piatto. Sono fatti dire almeno la lastinenza. Vado a prendere mia vita. Ok. Ok. Già viene espressa nel letter. Ma guarda. Inmento il collo, sui l'irano. Ma poi tutti qua, tutti i media parlano di quello. Faccio tipo una maniera nel frigo. Dico, cerca Yolta anche tu. Non mi fanno neanche vedere, tipo, e ora parliamo. Spengila, Jay, spengila. Sembra maleducazione. Aspetta l'esterno. Ragazzi, per favore, facciamo il gut load con tutta la potenza. No, è su Cugino. No, certo, certo. Però serve veramente. Yahoo! Ehi, che si fa qui? Che stai facendo? Sono fatta di estasi. Aspetta. Aspetta l'esterno. L'esterno cosa? Io non mi sono mai fatto di esterno. Questo problema è di. Non saprei dirtelo. Anche se ho molti amici che sei l'esterno. Mi aiuti oppure no? Cosa mi dai? Oh, cavolo. Acqua giusta, ma è veramente alto. Cos'hai da? Dì, che stai facendo? Che porti? E se lo conoscessi? Oh, merda. Sono un suo amico. Sono il suo ragazzo? Può essere preso male per i motivi chiari. Non ha senso. Ci restarebbe male anche lei. Io vorrei stare a una festa con quelli che stanno scegliendo solo il suo ragazzo e con le loro ex. Sono il suo amico. Siamo compagni di scuola in Arizona. Veli Uppidue, chi se ne frega? Ora esci dalla mia stanza o batte ne dalla testa. Dine, per favore, va tutto bene? Yes. Va bene. Calma, divina, cambia faccia. Devo cagare. È vero? Sì. Ragazzi, come vi state sentendo in questa interruzione, cerchiamo di non portare l'emozione completamente da un'altra parte, c'è un Marco Cacone. Fra l'altro, davvero, la quantità di cose che gli escono non è neanche paragonabile alle poche cose che gli entrano. Cacca, veramente ben misurato rispetto a ciò che gli entra, ma è ingiustificato tutto quel corpo. Non lo vedevo da un bel po' di mesi. Rincontrarlo? E chiaramente... Lo conoscete il nostro Marco Lino? Lo conoscete questo ragazzino? È un gran simpaticone. Riesce veramente a distrarti sul fatto che ha un evidente problema di salute. Rimanendogli accanto per un po' di giorni, a un certo punto la cosa si normalizza. Ed è veramente, da definire un secondo, difficile da guardare come una cosa che non dovrebbe avere ragione di cambiare. Ti ha già fatto vedere la sua merda. Abbiamo veramente visto un sacco di cose. Se quello è il livello... Faccio un secondo più pesante. Jeff, esservi dolce del creato. Hai preso un quadrifoglio? No, ma... È la prima cosa che mi hanno offerto. Il nostro quadrifoglio. Geffone, è un piacere conoscerti. Posso chiederti dove hai preso quei bellissimi orecchini? Certo, inizialmente, come tantissimi vestiti che fanno parte della mia esistenza, che caratterizzano la mia persona, vengono dall'utilizzo veramente spasmodico dei pochissimi soldi che ci siamo ritrovati nella vita che mia madre ha investito per potersi comprare le puttanate da puttanella. E ci sono tutte queste robe veramente belline, completamente inutilizzate e inutilizzate. Noi davvero siamo cresciuti con quattro soldi in culo. Nessuno, nonostante questo, c'era veramente la grande patologia di poter andare al mercato la domenica e tornare con un paio di scarpe da quattro euro, con un armadio delle case popolari che non faceva entrare queste cose ed esplotevi, perché è questa la mia femminilità. E effettivamente lo era tantissimo per lei. Quindi ho rubato un sacco di cose alla mamma, le ho rubato anche degli orecchini, ma evidentemente erano così importanti per la signora Patti che si è messa quasi a piangere e me li ha fatti fare da un suo amico indianello. Vi piacciono? Vi è piaciuta la storia? Potevo snellirla un attimo. Ho approfittato per descrivervi un pochino il contesto con mamma. Jeff, sei un bellissimo essere. Indubbiamente voglio avvicinare un sacco di altri individui che possono pensare altrettanto fino a quando non è avvicinati così tanto che questo giudizio può cambiare, perché è difficile amare qualcuno a cui le cose vanno bene. Figura di quanto è facile poterlo dire verso un chissà chi. Jeff, I care routine. Cosa ne pensi dei cammelli? Che è bello che l'abbiano aggiunti in Minecraft, che non saprei veramente capire come rapportarmi con uno davanti, ma è sicuramente un principio a quattrozzante di una grande amicizia. Quindi se dobbiamo considerare e possiamo considerare magari in qualche modo, ed è un po' specista come discorso, ma se ci sono degli animali nati con una funzione subordinata all'essere umano, i cammelli sono sicuramente i più fighi di tutti che hanno detto ragazzi, che palle farlo da solo. Che palle, magari non riuscire a incontrarvi, non dovete avere neanche un gruppo, non dovete organizzare con nessuno, non dovete dar da mangiare due cavalloni per viaggiare in due. Travel Blogger, si viaggia. Jeff, drop a Spotify. Magari avessi il coraggio di sfruttare così tanto la disponibilità e l'amicizia di un mio amico e collega stimato o restimante. Ma di che stiamo parlando? Il nulla. Tu riesci a parlare del nulla. Hai la facoltà di prendere l'aria e iniziare a friggerla in temporaneità. Fra l'altro c'è veramente bisogno di non entrare in nessun tipo di topic particolare, se non una serie di quattro minuti al cinema, di pubblicità del nulla, perché siamo veramente in una situazione abbastanza importante con quel gioco, perché non ci impegniamo a vivere veramente bene quello che stiamo vivendo. Bello il nulla. O no? Jeff, e tu come condisci la pizza? Da sempre nel modo più... pasticcione possibile! Mai fatto con la pasta? Mai fatto con la pasta e ho conoscito qualcuno che l'ha fatto. Tanti, avete mai fatto la... piadino pasta? Fatemela swear. Jeff, te lo sei lavato il pisello oggi? Me lo lavo molto spesso perché puzza veramente di coglioni. Come potrebbe sorprendervi? Ciao Marco, era un po' che non vedevo una tua live. Ti sei immagrito e stai molto bene con i paffi e con i cavalli lunghi. Non sono Marco, non sono palesemente Marco. Penso che lo sapessi tranquillamente. Comunque ti ringrazio. Devo tutto a Silvio Saba che mi ha fatto dimagrire. Jeff, dammi un consiglio in generale per favore. Quando parli con le persone, assicurati che lo vogliono. Ma ti manca un dente? Allora, no, sono esattamente... Molti piccolini. Molti piccolini. Molti piccolini in questo momento. Quindi sono molto separati. Anche mio padre ce l'ha così. Quindi, certo, per il resto del mondo è un po' una coionata disfunzionale. Per me e mio padre è un modo di dire Ehi, sisti sisti, sisti sisti. Non ci conosciamo, non ci siamo frequentati molto. Ma quando ci incontriamo sappiamo su chi contare. Perché c'è la genetica della nostra. Sisti sisti. Quello che invece vi posso... Ok, è finita. Eccolo qua. Io sono là. Quello che mi dispiace, ma sono felice di portare addosso, è che in questa piccola vascia di dente non è esattamente, né tantomeno pulito, ma sicuramente non ben costruito. Perché da piccolino a 12 anni con un mio amico degli scout abbiamo detto giochiamo a One Piece e io dicevo tipo La bandiera! E lui diceva, certo, gommu gommu no, gusto del reale al di sopra della fantasia. Mi ha preso nel dentino e il mio pezzo di dente che mi è volato me lo sono portato in una piccola collana di cristallo per un po', per farlo sentire male, cosa che succedeva soltanto a me. Jeff, un consiglio per noi eco-ansiosi, chiudete la finestra. Chiudila. Jeff, sei un cucciolino. Salto cringe perché non può né fare male né fare niente se non far perdere tempo alla lettura, ma non l'ho fatto, sempre per l'amore di aria fritta. Jeff, ti piace? MacMarco, di Ganno 6, andiamo al gioco. Grazie, grazie per la sopportazione. Bacio bacino. Yahoo! Mi lascio lo spec fuori. L'ho messo io dentro. Lo stai dicendo con così tanta contenta rabbia perché l'odore dello spec è neanche qualcosa che vorresti sentire? No, si fa una merda e poi domani non puoi mangiarlo. No, thank you. Eccomi! Guardate, bella immagine. Comunque è più scema di quello che pensavo adesso. Amico, ti sta dicendo di andare. Mi dispiace, su questo cresciuto, i sentimenti, ma... E' una tattica, è una tattica, è una tattica. Stai facendo una tattica. Vai. Non puoi vivere? Ma che cazzo... Perché sembra che... No, lascia l'istarro. No, no, ragazzi, ragazzi. So che Marco è un cagone che è andato a cagare, ha fatto la robina, ci vogliamo riprendere, vogliamo... Non lo manco, non lo manco... Ah, che noia, che padre. Ragazzi, veramente come volete, eh? Ma che cazzo fate? Ragazzi, colpisci della fine del... Ma che cazzo fate? La fine di quello che stiamo facendo, ragazzi. Ma siete idioti? È solo uno sfogo, perché Marco ha fatto la cacca e volete dire, ah, sì, e ora ci divertiamo noi. Ciao! Nel culo! Ma che c'è? No, dovete spiegarmi perché avete fatto sta cosa. No, questa dovete spiegarmelo. Cioè, perché adesso, al contrario di tutto quello che abbiamo fatto adesso. Perché? Perché siamo di Berlini. Ah! Ora l'hai sentito. Ti aspetto alla macchina. Vai. Cornutone! Lui è più bastone di lui in questo momento. Nessuno gli ha portato. Ma poi sarei visto che si doveva creare questa situazione? E' un bravo che ti mando un'acqua a te. Ancora tutto così bello? Dino, che li hai seguito? Era tutto sotto controllo. Hai detto che era amico di tuo fratello. Lo era. Ma siamo anche usciti qualche volta. Ma pure Martina mi va contro. Ma che succede? Non lo so. Non te l'ho detto in base. Però volevi stare da sola con lui. Per convincerlo ad aiutarci. Ma è palese. Cosa che è vero. Ma ho cagato e sono in un altro multiverso. È tutto diverso. Ma che sta succedendo? Martina che mi dà dello stronzo. Voi che impazzite. Martina l'ha messo su un piano veramente pesantissimo e importante. L'estra fatta prima di stare lì. Che cazzo fai? Quello che voglio. Non so quanti giorni ha scoperto i cugini. Quindi voi due... Ma chi se ne frega? Aspetta, sei genoso? Sì. Dillo. Dammi l'opzione. Ma no. Ma per favore no. Ma per favore no. Ma che sta succedendo? Vogliamo fermarci e respirare un attimo? Sì, apre le strade. Merda, ok. Quindi il gioco è diventato... Facciamo il contrario di quello che dice Marco. Tu sei andato a fare la cacca. E quindi? E quindi ti sei preso una libertà veramente goliardica. E io sento che questi ragazzi si vogliono veramente divertire. Però questa cosa va accalmata. So you come?